Buonasera e ben trovati a 7 lunedì sono iniziati i lavori di restauro delle facciate della cattedrale di Prato. Iniziato quindi l'allestimento dei ponteggi e le opere propedeutiche all'avvio vero e proprio dei lavori di restauro della facciata della cattedrale. Sono iniziate le opere propedeutiche all'avvio dei lavori di restauro delle facciate del Duomo di Prato. La ditta è incaricata, la piacenti SPA sta infatti procedendo con l'allestimento dell'area cantiere e sta montando i ponteggi che andranno nelle prossime settimane a coprire il perimetro esterno della cattedrale del Campanile. Gli interventi, il cui termine è previsto per ottobre 2022, consisteranno nello specifico nella messa in sicurezza e restauro delle superfici lapide esterne della chiesa. Il progetto è stato realizzato dallo studio COMES. I lavori verranno eseguiti, come detto, dalla piacenti SPA con la supervisione della soprintendenza. Il committente è il capitolo della cattedrale in collaborazione con l'ufficio beni culturali della diocesi. Il costo totale dei lavori è di circa 1.700.000 euro. Il capitolo della cattedrale beneficerà del bonus facciate al 90%. Come spiegato dal vicario generale della diocesi, Don Daniele Scaccini, per la durata dei lavori l'accesso alla cattedrale sarà garantito. Lo svolgimento delle celebrazioni eucaristiche, così come l'apertura della chiesa, non subirà variazioni. È un lavoro importante, per noi lo è ancora di più, perché la nostra città è il luogo dove viviamo, dove abbiamo la sede, dove vivono tanti dei nostri dipendenti e saranno contentissimi di lavorare senza trasferta, perché da noi oramai è una costante. Il Duomo è un sogno per noi. Nei giorni scorsi la Piacenti S.p.a. ha iniziato i lavori preparatori a restauro, facendo dei saggi sulle pietre e delle prove di pulitura. Adesso è iniziato l'allestimento dell'area cantiere, con l'avvio in concomitanza degli interventi che procederanno per step. I vari step sono lo studio del materiale lapideo, del degrado. Successivamente verranno eseguite prove di consolidamento e di pulitura. E poi per arrivare definitivamente ai lavori veri e propri, comporteranno la pulitura, il consolidamento dei materiali lapidi. Quindi oltre al materiale lapido ci sono anche le statue sul fronte della cattedrale che avranno necessità di un restauro approfondito, una pulitura per farle tornare allo splendore iniziale. E' sempre di lunedì la notizia che il Tar ha sospeso l'interdittiva antimafia nei confronti della Cafissi Alvaro. Il provvedimento della Prefettura decade in attesa della pronuncia di merito fissata ad aprile 2022. Il Tar della Toscana ha sospeso l'interdittiva antimafia della Prefettura di Prato che due mesi fa aveva colpito l'azienda di costruzione Cafissi Alvaro SRL dell'imprenditore Alessandro Cafissi. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso degli avvocati Ugo Fanti e Duccio Maria Traina. Nella loro memoria difensiva i legali avevano confutato le accuse che scatorivano da un'inchiesta della DDA di Firenze su un giro di riciclaggio e smaltimento illecito di rifiuti a carico di altre imprese edili di terzi ritenute proiezioni dell'andrangheta catanzarese in Toscana. L'inchiesta aveva toccato di riflesso anche Alessandro Cafissi al quale veniva contestato di aver fatto lavorare in tre cantieri pubblici senza subappalto e attraverso il meccanismo del distacco i dipendenti di un'altra azienda finita al centro delle indagini e ritenuta dalla DDA vicina alla criminalità organizzata. Gli avvocati di Cafissi, il quale a seguito delle contestazioni si era autosospeso da presidente di Ance Confindustria Toscana Nord hanno prodotto una serie di documenti e prove del fatto che in realtà in due dei cantieri vi era stato un regolare subappalto autorizzato dagli enti pubblici nei confronti di una società fino a quel punto dotata di tutti i requisiti di legge per potervi accedere e che anche nel terzo cantiere si era agito rispettando le normative vigenti utilizzando il meccanismo del distacco di mano d'opera. Argomentazioni che sono state accolte dal Tar. Nel merito i giudici si pronunceranno nell'udienza del prossimo 21 aprile ma intanto la Cafissi Alvaro potrà chiedere di vedersi riassegnati gli appalti revocati o congelati tra cui anche quelli per il Comune di Prato per la riqualificazione di via Pistoiese. Votato nella nottata di lunedì l'emendamento alla legge di bilancio che ha stanziato 10 milioni di euro per il distretto industriale pratese. Il Comune ha detto un segnale concreto per il lavoro grazie alla sottosegretaria Bini per il supporto. 10 milioni di euro per il distretto tessile. A tanto ammonta il contributo previsto per il 2022 dall'emendamento alla legge di bilancio votato questa notte. Un risultato reso possibile grazie al confronto promosso dall'amministrazione comunale di Prato tra le categorie economiche e la sottosegretaria ai rapporti col Parlamento Caterina Bini e successivamente al viceministro Castelli. Un percorso svolto nella massima riservatezza. Il contributo arriverà al Comune di Prato che sarà stazione appaltante verso le imprese del settore tessile dell'intero distretto. Non si parla solo di Prato quindi ma anche di Montemurlo, Calenzano, Aiana e Montale. Siamo partiti incontrando le categorie economiche per capire come potevamo anestetizzare gli aumenti del costo dell'energia e del gas. Poi in questo percorso insieme all'assessore Squittieri con l'appoggio veramente insostituibile di Caterina Bini e del viceministro Castelli abbiamo proseguito virando su quella che poi è stato il risultato ottenuto cioè 10 milioni di euro da spendere per il nostro distretto un lavoro vero che fra l'altro anche i parlamentari pratesi hanno contribuito a portare in fondo è stato un bel lavoro di squadra che portano risorse come mai era successo per il settore tessile che il comune gestirà con bandi mirati. Il sostegno al distretto è stato attribuito in considerazione dell'impatto dell'emergenza Covid. Secondo la norma potrà essere disposto per diverse linee di intervento efficientamento e riduzione dei costi di approvvigionamento energetico transizione digitale, economia circolare rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Costituiremo un tavolo tecnico da gennaio per stabilire quali saranno i criteri che verranno applicati all'interno del bando. Ovviamente c'è tutto il tema dei costi dell'energia c'è tutto il tema però anche del sostegno alle attività del nostro distretto. Dobbiamo essere chiari questo è un modo per stare accanto alle imprese del distretto pratese ma è un modo per pensare al futuro del lavoro di questa città. Il Ministero ha 60 giorni per attuare le norme che sono scritte in legge di bilancio quindi sarà un lavoro che dovremo fare anche di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico che ovviamente stiamo già per la via informale avviando. Ed è purtroppo giunta a martedì la notizia che non ce l'ha fatta la studentessa delle Curcio Malaparte che la settimana scorsa aveva accusato un malore a scuola poco prima di iniziare l'ora di ginnastica. La dodicenne è morta all'ospedale pediatrico Maier di Firenze dove era stata ricoverata la scuola di Via Baldanzi una psicologa sta aiutando i bambini ad affrontare il trauma. Una psicologa sta seguendo i compagni di scuola della bambina di 12 anni che è morta ieri pomeriggio all'ospedale Maier di Firenze dopo aver accusato un malore venerdì scorso mentre si accingeva a fare ginnastica. L'emorragia cerebrale si era rivelata fin da subito gravissima e dopo quattro giorni trascorsi nella rianimazione dell'ospedale pediatrico è arrivato il decesso. La tragedia ha colpito la famiglia della giovane e ha scosso profondamente a pochi giorni dal Natale tutta la comunità scolastica delle Curzio Malaparti i ragazzi e le loro famiglie gli insegnanti e il personale non docente. In particolare per quanto riguarda i compagni di Michela fin da subito abbiamo cercato di tranquillizzarli perché avevano avuto una reazione emotiva forte e questo venerdì e ieri oggi che sappiamo che appunto la situazione è precipitata abbiamo cercato di avvertire le famiglie dei ragazzi fin da ieri pomeriggio in modo che ogni ragazzo venisse a conoscenza dai propri genitori di questa tragedia e i genitori si sono accordati tra loro per far venire tutti i compagni oggi a scuola non mancava nessuno e questo ci ha permesso di lavorare con tutti sempre grazie all'aiuto della psicologa è stata più di due ore in classe attraverso chiaramente attività che lei conosce ha cercato di fare esternare a questi ragazzi il senso del dolore della rabbia proprio del trauma che hanno subito e poi continuerà questo lavoro domani e domani all'altro oltre a questo pensiamo di organizzare per gennaio un lavoro proprio ancora più approfondito di elaborazione del lutto e del trauma e questo sia per i bambini che per i professori una bambina che era inserita che nella classe era amata da tutti lei la conosceva possiamo chiederle un ricordo allora questa bambina è arrivata da noi in prima media perché la scuola primaria l'ha fatta in un altro istituto è una bambina cinese che era inserita benissimo sia con i compagni cinesi che con i compagni italiani anche stamattina i compagni hanno detto era gentile era gentile perché nelle materie in cui lei riusciva meglio tipo la grafica sai i cinesi sono bravi lei aiutava tutti e i bambini questo lo riportano sequestrati 150 kg di botti non a norma venduti in negozi di articoli e casalinghi denunciati gestori che avevano anche assemblato più batterie creando vere e proprie bombe i carabinieri e la polizia municipale di Prato hanno effettuato una serie di controlli all'interno di esercizi commerciali che vendono fuochi pirotecnici per verificare il rispetto delle regole previste dal test unico di pubblica sicurezza i controlli hanno riguardato diversi negozi della provincia hanno portato al sequestro di circa 150 kg di materiale pirotecnico e alla denuncia di tre cittadini cinesi che nell'ambito della gestione dei loro negozi di casalinghi e articoli vari in via Filzi e via Gora del Pero avevano messo in vendita il materiale sequestrato i tre denunciati avevano messo in vendita materiale pirotecnico della categoria F2 con coefficiente quantitativo di materiale esplodente superiore alla limite oltre il quale la libera vendita non è consentita necessitando invece di specifica licenza avevano inoltre prodotto dei fuochi realizzati mettendo insieme anche 20 o 30 batterie pirotecniche che seppur legali in questo modo componevano vere e proprie bombe di elevatissima potenza vietate alla libera vendita i botti così trasformati avevano alterato e resa inefficace la certificazione CIE di cui erano muniti non corrispondendo più di fatto al prodotto originario e questa settimana siamo tornati ad occuparci della vaccinazione perché dalla prossima settimana riapre l'Hub al Pellegrinaio Novo le somministrazioni intanto proseguono anche nei giorni di festa nuova spinta nella campagna di vaccinazione anti-covid a partire da lunedì 27 dicembre riaprirà infatti il Pellegrinaio Novo chiuso dalla fine di ottobre l'Hub che non era mai stato smantellato tornerà quindi ad affiancare il centro Pegaso di via Galcianese a gestire la struttura saranno le associazioni di volontariato riprendono i contagi purtroppo anche in città i numeri sono abbastanza elevati per cui si è ritenuto insomma di riaprire prima il Pellegrinaio rispetto a quando pensavamo e quindi lunedì 27 lunedì prossimo va riaperto il Pellegrinaio di pomeriggio dalle due e mezzo alle sette e mezzo e faremo diciamo dalle circa duecento dosi al giorno in più rispetto a quelle che già sono state aumentate in questi giorni al Creaf che sono arrivate fino a mille cinquecento al giorno abbiamo visto e lo vediamo purtroppo tutti i giorni che la vaccinazione è effettivamente la cosa che protegge maggiormente da questo virus per cui bisogna cercare di aumentare le dosi di vaccinazione somministrate intanto continua ad essere attiva la modalità di accesso open nella rete degli hub territoriali riservata a coloro che devono effettuare la prima dose di vaccino anti-covid e che potranno quindi recarsi senza prenotazione in uno dei quattro hub principali dell'Asla Toscana Centro tra i quali anche il Pegaso 2 di Prato aperti sette giorni su sette dalle otto alle venti nei giorni delle festività il 24 il 25 il 26 il 31 dicembre il primo gennaio l'orario di apertura sarà invece dalle otto alle tredici infine a partire dal 29 dicembre in seguito tutti i lunedì pomeriggio dalle 14 alle 19 nell'ala nord dell'ospedale Santo Stefano sarà dedicato uno spazio per le vaccinazioni protette dei bambini tra i 5 e gli 11 anni l'accesso verrà a seguito di una valutazione dello specialista allergologo a cui possono essere inviate le richieste di consulenza da parte dei pediatri di famiglia e dei medici vaccinatori degli hub tradizionale conferenza stampa di fine anno del sindaco e della giunta comunale il primo cittadino si è detto orgoglioso di come Prato ha affrontato l'emergenza sanitaria poi ha difeso a spada tratta le scelte adottate per la viabilità cittadina prima la ripresina e l'aumento degli ordini poi la stangata del caro bollette e delle materie prime infine i 10 milioni di euro a sostegno del distretto stanziati dal governo nella legge di bilancio è stato un anno fra alti e bassi il 2021 vissuto in provincia di Prato ma che comunque ha visto il tessuto economico cittadino reggere a fronte di presupposti che destavano non poche preoccupazioni lo ha ricordato il sindaco Matteo Biffoni nel corso della conferenza stampa di fine anno durante la quale ha ribadito come ci sia bisogno di continuare a raccontare a Roma negli uffici ministeriali e laddove si decide il futuro del paese le peculiarità di Prato una città grande ha detto Biffoni con problemi da grandi città a Roma bisogna insisterli insisterli raccontare Prato venite a conoscere prendete in mano i nostri dati effettivi e valutateli non sul numero degli abitanti della provincia che è il nostro grande limite ma su quello che effettivamente c'è dentro quella provincia il sindaco ha guardato anche al prossimo futuro e ha la possibilità di attrarre risorse sul territorio grazie al PNRR le perplessità sui grandi progetti però non mancano a causa dei tempi troppo stretti per rendicontare i lavori all'Europa d'altronde basta guardare i casi di Parco Urbano l'ex Misericordia e Dolce e dell'interramento della declassata al soccorso per capire come serva in media un decennio per portare a compimento una grande opera io continuo a dire che i tempi se non diamo veramente una sforbiciata per quanto appunto il DL semplificazione che sia andato in questo verso continuano ad apparirmi piuttosto stretti siamo a fine dicembre siamo già sostanzialmente nel 2022 il 31, 12 e 2026 le opere dovrebbero essere rendicontate quindi già finite collaudate e rendicontate mi sembra una sfida per il paese piuttosto complessa il sindaco ha pure toccato il tema del momento la mobilità Bifoni ha difeso a spada tratta le scelte della giunta su ciclabili e marciapiedoni ribadendo che indietro non si torna non si può essere diciamo ecologisti a giorni alterni non si può dire ah che è ganza greta e viva i Fridays for Future andare nelle scuole a farsi raccontare dai bambini che vogliono una città più verde a misura di biciletta e poi lamentarsi se ci sono le piste ciclabili la filosofia resta l'idea di avere una città connessa fra di sé e anche nelle arterie del traffico oltre a quelle del lungomisenza che sono più diciamo servono anche quelle ma sono più diciamo in momento ricreativo ma anche le grandi arterie del traffico da una mobilità alternativa questo dietro non si torna non era il diavolo ma è stato condannato a sei anni per violenza sessuale giovedì l'imputato dell'inchiesta molto nota è stato riconosciuto colpevole del reato nei confronti di cinque giovani e assolto dall'accusa di riduzione in schiavitù è stato condannato a sei anni di reclusione per il reato di violenza sessuale il 24enne di Montemurlo arrestato nel giugno 2020 con l'accusa di aver costretto alcuni coetanei fra cui diversi minorenni a subire atti sessuali avendoli convinti di essere il diavolo il giovane è stato anche condannato al risarcimento dei danni verso le vittime e al pagamento di provvisionale per un totale di 33 mila euro l'udienza si è svolta con il rito abbreviato al tribunale di Firenze alla presenza del giudice Sara Farini che ha accolto le richieste del pubblico ministero Eligio Paolini il 24enne è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di cinque giovani e assolto per lo stesso reato contestato dall'accusa verso sette ragazzi cade anche il reato di riduzione in schiavitù perché il fatto non sussiste con questa sentenza viene meno dunque l'accusa di aver dato vita a una setta attraverso la quale il giovane montemurlese avrebbe tenuto i presunti adepti in stato di soggezione mediante abuso di autorità facendo credere loro di essere il diavolo un reato che da solo prevede penedittali fino a 20 anni di reclusione la condanna a sei anni si spiega con il riconoscimento delle attenuanti generiche per incensuratezza e dello sconto di un terzo derivante dal rito abbreviato il processo nasce dall'inchiesta condotta dalla squadra mobile di Firenze secondo la quale il 24enne montemurlese avrebbe costretto un gruppo di adolescenti di alcuni anni più giovani di lui a compiere e subire atti sessuali con il fine dichiarato di rimuovere blocchi mentali per evitare maledizioni oggi 26 dicembre in cattedrale è stato celebrato il solenne pontificale nel giorno del patrono Santo Stefano come da tradizione al termine della messa il vescovo Giovanni Nerviri ha annunciato i vincitori del premio Santo Stefano il riconoscimento che la città di Prato consegna alle aziende virtuose del suo distretto industriale la dodicesima edizione dello Stefanino d'oro è stata vinta da BB Spa azienda meccanica con spiccato impegno sociale marine industrie impresa tessile attiva da 80 anni nel distretto e manifattura IGEA SPA azienda di produzione filati attenta alla sostenibilità ambientale la cerimonia di premiazione si terrà sabato 12 febbraio e per questo appuntamento è tutto grazie per l'attenzione arrivederci a non non no mai ne Grazie a tutti.